Nell è uno dei migliori chirurghi di Seattle. Nell. E lui come si chiama? L'uomo. Owen. Nell. Owen. Abby. E il cane è Alice. Non mi piacciono i cani. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Questa strada porta dritta in centro. Fino a quei palazzi altissimi. Poi toccherà a te fare da guida, ok? Il percorso parte dal giume in tempeste. Da lì poi so dove andare. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide? Sì. Tutte? Sì. In un paio d'ore. Non sto mentendo. Ok. Non. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Lupo, eccoci. È il palazzo dove stiamo andando. Ok, lo vedo. Che succede se non portiamo le scorte alla tua vita? Dovrà operare con quello che riesce a trovare da uno e non... non sarebbe un bene. Credi che Yara ce la fa? Se recuperiamo le scorte, sì, ha buone possibilità. Anche i nostri cani giocano a carte, sai? Ho tredici anni, non otto. Dall'altezza avrei detto otto. Lì, salito, stai simpatica agli altri. Cos'è la sindrome compartimentale? Se nei muscoli si sviluppa troppa pressione, il sangue resta bloccato nei tessuti. Tessuti? Ho una specie di pelle dentro al corpo. Sai, questa cosa? Conosco diversi gruppi. Come me. Conosco diversi gruppi. Conosco diversi gruppi. Puoi. 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 crediamo di arrivare in cima al palazzo sei mai stato su questi ponti prima? sì pensi troveremo molte iene? Serafiti? non lo so e sei pronto ad affrontarli? ieri l'ho fatto ma loro ti stavano dando la caccia tutti ci danno la caccia ok? 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 viss Lightman oh cazzo tutt ok? sto bene ok? sto bene sto bene ho detto ci stiamo avvicinando al palazzo dovremo procedere a zigzag quando siete scappati esattamente due giorni fa e per andare dove non lo so solo lontano ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo lo sai vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa non era permesso è la regola e lo infranto perché l'hai fatto sei un tipo punk nel senso che non segui troppo le regole in effetti è la regola Grazie. 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 Ok, fammi rivedere il codice. Ok, fammi rivedere il codice. Grazie. 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 qui la corrente è fortissima di stare molto attento inteso l'ho già fatto altre volte maledizione chi è? non lo so non è un lupo? saremo migliaia tu conosci ogni iena? smettila di chiamarci iene certo grazie 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 Gatti. Gatti ballerini. La gente del vecchio mondo era strano. La gente del vecchio mondo era strano. La gente del vecchio. La gente del vecchio mondo era strano. La gente del vecchio mondo era strano. La gente del vecchio mondo era strano. Quanto dobbiamo salire? Andrà tutto bene. Tantissimo, vero? La gente del vecchio mondo era strano. Sbruffone. Non è difficile. La gente del vecchio mondo era strano. 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 Di qua. La gente del vecchio mondo era strano. 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 Voglio dire, voi avete armi e soldati. Ma noi troveremo sempre un modo per aggirarvi. Puoi anche smettere di dire noi, visto che vogliono ucciderti. La pastata! Mettere! 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 Ti troverò a dieta! Tutto ok? sì ti aiuto ce la faccio hai sentito come mi chiamavano sì vuoi chiedermi perché vuoi che ti chieda perché ok ok Grazie a tutti. Wow. Proteggile. Chissà se il vostro oracolo sapeva cosa stava facendo. Ha salvato decine di persone, in modi inspiegabili. Ha fatto esplodere i camion e ucciso soldati. Non mi sembra un miracolo. Hai letto i suoi scritti? Una scorsa rapida. Ti farebbero bene. Certo. Ti farebbero bene. Ti farebbero bene. Tui. Grazie. 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 Stavolta vado per prima. Ok, seriamente, fin dove arriva. Colgo l'occasione. Condoglianze per vostro figlio. È un onore. Ora vive con l'oracolo. È morto con coraggio. Sarete orgogliosi. Lo siamo, grazie. Gli anziani ci hanno offerto un altro bambino. È un grande onore. Elizabeth sembra felice, ma... forse non è ancora pronta. Gli anziani sanno cos'è meglio. Andrà tutto bene. A destra. È un arcello. Sì, certo. Run. Oph... Uff!.. Grazie. Grazie. Grazie a qualcuno. Grazie a tutti. 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 C'è un ascensore? Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti segnali di rafforzamento. Grazie a tutti. Parola di... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok? Grazie a tutti. 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 tra te e il tuo amico Ued. Oddio, l'epa adesso! Sembravate strani! Vai e basta! Ah, grazie al cielo. Ce l'ho fatta! Andiamo! Mi concedi un secondo di autocelebrazione? Non ancora! Vieni, Lev, voglio abbracciarti! Perché? Perché? Oddio, ma che sto facendo? Eccolo? 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 No. Ma che cazzo l'è? Andrà tutto bene. Guarda me. Merda. Oh, cazzo. Un culo. Come fai a non avere paura? E non citarmi l'oracolo. Non mi spaventa l'altezza. E cosa allora? L'oceano. I cani. Porca troia. Oddio. Ci siamo quasi. No. Merda. Guarda, da qui si vede l'ospedale. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Concentrati su di me. Non ce la faccio, Lev. Non posso. Sì, che puoi. Non posso. Fidati di me, dai. La vera forza. La vera forza. La vera forza. Forza, ci sei quasi. Puoi farcela? Calma. 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 Fammi il culo. Ci siamo quasi. Va bene. Va bene. Forza, ora spengo. Che cazzo. Epi, tieni lì. Tirami su, tirami. Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. 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 E adesso? Non lo so. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. Oh, forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Per cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Allora. Allora. Ok. Sì. 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 Sì.